Nel comune di Capaccio Pestum cambia l'imposto di soggiorno, lo ha deciso il commissario prefettizzo Rosa Maria Falasca. I titolari delle strutture sono tenuti a comunicare al comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di corolo che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti. Per quanto riguarda le strutture alberghiere a una e due stelle, il costo sarà di un euro al giorno a persona. Negli alberghi a tre stelle si pagheranno un euro e cinquanta, in quelli a quattro e cinque stelle la tariffa sarà di due euro a persona. Due euro e cinquanta pagheranno invece coloro che soggiorneranno agli alberghi a cinque stelle lusso. Per le strutture ex alberghiere, b&b, affittacamere, case appartamenti, vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, attività recettive in residenze rurali, la tassa di soggiorno sarà di un euro al giorno per persona. Pagheranno 80 centesimi coloro che soggiorneranno le strutture turistico-recettive all'aria aperta, campeggi per la sosta in piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento. Pagheranno 80 centesimi al giorno anche coloro che esceranno di soggiornare nei rifugi di montagna, case religiose di ospitalità. La nuova imposta è prevista del 100% per i primi sette giorni di soggiorno. Dall'ottavo giorno al quindicesimo giorno la misura sarà ridotta del cinquanta per cento, con esclusione totale dal sedicesimo giorno in poi. Non pagheranno alla tassa i minori fino a dodici anni. Le strutture recettive dovranno comunicare al comune entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese il numero di coloro che hanno prenotato nel mese precedente e il periodo di permanenza. Per chi non rispetterà le nuove modifiche sarà applicata la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.